Buongiorno, buongiorno amici, ciao agli ultimi, parlare della campionata della Juventus, parlare della campagna acquista del 2017 della Juventus, di questa nostra grande e bella squadra. Ho sentito fare tanti nomi, ho sentito dire tante cose, ho sentito dire che alcuni erano già in partenza per arrivare a Torino, il giorno dopo o dopo due ore erano su un'altra rotta. Ci siamo presi cerchi intanto ed è un ottimo acquisto. Più che altro io direi in finale ci siamo arrivati ragazzi, abbiamo vinto il campionato Coppa Italia, siamo arrivati in finale di Champions. Adesso mi dico io e chiedo a voi, ma ne vale proprio tanto la pena di rivoluzionare la nostra squadra? Tanto in finale è stato un errore, lo sappiamo tutti, di impostazione, di approccio, non tanto di giocatore. Lasciamo perdere la stronzata che il Real Madrid è più forte della Juventus perché non lo è a fare. E' capitata una partita in cui la Juventus ha sbagliato tutto. Ma non è che forte il Real Madrid più della Juventus, no. Anzi addirittura vi dico, se giochiamo altre 10 partite, gli stessi giocatori difficilmente capiterà un altro 4-1 per il Real Madrid. Sarà proprio impossibile. Per cui io direi di centralizzare gli acquisti, cioè capitalizzare quello che abbiamo e tenercelo perché va bene. e prendere uno o due giocatori da inserire in questo maledetto centrocampo che a quanto pare è la parte più debole della squadra, diciamo così. Allora, di centrocampisti buoni, ottimi ce ne sono tanti, ma di centrocampisti eccellenti che fanno la differenza, chi ce l'ha se le tiene strette. E allora, e allora dico io, forse tutto sommato quello che stanno facendo i nostri dirigenti non è sbagliato. Lasciamoli lavorare, dico io. Noi possiamo dire tante cose, ci piace uno, ci piace uno, ma non abbiamo il polso della situazione. Il polso ce l'hanno loro. Noi dobbiamo limitarci a fare i tiffusi. Tifare per questa squadra, volerli bene, stargli vicino e basta. Poi non sta a me o al santone di turno o allo spaccone di turno che si mette dietro una telecamera e spara numeri e spara a bambera o nomi a bambera. Loro sanno quanto ci hanno, quanto possono, quanto devono e cosa devono. Noi possiamo dire mille cose, centomila cose. Automaticamente non abbiamo detto niente e non abbiamo fatto niente. Per cui, buon lavoro ragazzi, buon lavoro a Nedved, buon lavoro alla società, ma soprattutto buon lavoro al nostro grande presidente Agneta. Ci ha dato tanti questi anni. E allora, abbiamo fiducia in loro e soprattutto in loro. Ciao agli uomini.